Diventa reporter di e-news, invia il tuo video tramite whatsapp o via mail alla redazione di Faninforma. Le indagini sono partite negli istituti scolastici di Pesaro-Urbino con perquisizioni fatte nell'intervallo agli studenti. Quattro di loro, tra cui un minorenne, sono stati denunciati perché in possesso dello stupefacente. I controlli dei poliziotti sono perseguiti fino a risalire al 25enne albanese. Gli agenti hanno bloccato l'uomo che girava per la provincia a bordo di un'auto costosa la notte del 30 aprile mentre nascondeva 5 panetti di droga da 2,2 kg l'uno in un bosco nella periferia di Pesaro. Dopo averlo bloccato e arrestato, gli agenti hanno perquisito la sua abitazione trovando un altro panetto di droga. Il 25enne riusciva a vendere 15 kg al mese di stupefacente, ricavandone circa 100.000 euro. Il sindaco Guzzi replica il Partito Democratico sulla mancata approvazione del bilancio di previsione. Il primo cittadino ha ricordato che i comuni hanno avuto la proroga dal governo ad approvare i bilanci entro il 31 luglio e che oltre la metà dei comuni non lo ha ancora approvato. Il bilancio è pronto, ha aggiunto Guzzi, si chiuderà in pareggio e non provvede a aumenti di tasse. Conta anche 700.000 euro di Ase Spa e Holding, perché sappiamo che entrambe chiuderanno con un utile di un milione di euro. Nel 2013 il bilancio fu approvato il 5 giugno, per cui, per il primo cittadino, non c'è nulla di strano se quest'anno sarà approvato qualche giorno più tardi. La famiglia Mezzini avrà ricevuto dal ministro Beatrice Lorenzin che domani 10 maggio sarà a Fano per il tour elettorale. I genitori di Federico, bimbo di quasi 4 anni affetto dal morbo di crabbe, sono riusciti ad ottenere un appuntamento con il ministro della salute, al quale chiederanno il perché la sperimentazione sulle cellule staminali, che secondo una delibera del Parlamento doveva partire il 2 luglio 2013, non sia ancora iniziata. Una corsa contro il tempo, quella dei Mezzina. Il piccolo Federico, che ha fatto l'ultima infusione il 7 febbraio, inizia a ripresentare alcuni peggioramenti, i quali, secondo il padre Vito, erano scomparsi nei periodi dell'infusione. Sono previste fino a domani le turnazioni per gli aiuti alla popolazione di Senigallia della protezione civile di Fano Club Enrico Mattei. Finita l'emergenza si continua a ripulire le strade, garage e abitazioni private. I cittadini che volessero dare il proprio contributo come volontari, possono contattare la Caritas di Senigallia e raggiungere il seminario in via Cellini 13, tutti i giorni alle 9 o alle 14.30, muniti di guanti, pale e stivali. La Caritas sta inoltre raccogliendo prodotti per l'igiene, come stracci da pavimento, candeggine e guanti, materiale scolastico e alimenti subito consumabili. Diventa reporter di E-News. Invia il tuo video tramite WhatsApp o via mail alla redazione di Faninforma.